E iniziamo quest'altro intervento e con Maurizio Napolitano della Fondazione Bruno Kessler Cercheremo di capire se è possibile mappare Trento Salve a tutti Mappare Trento è un gioco di parole che ha più di 10 anni Che viene da parte della comunità italiana di OpenStreetMap Che gioca sul fatto di far apparire qualcosa Spesso e volentieri vi capita di dare delle indicazioni a qualcuno E quando date delle indicazioni a qualcuno cosa fate? Prendete carta e penna e iniziate a disegnare E date le informazioni su dov'è questo luogo che volete raggiungere Ecco questa qui è una lettera molto carina Di qualche anno fa Che riguarda un turista che era andato in Islanda E che aveva visitato una famiglia E voleva raggiungerla con una lettera per ringraziarla Per raggiungerla ha iniziato a disegnare questa mappa Ha disegnato la mappa sulla card, su questa lettera E secondo voi la lettera è arrivata? La lettera è arrivata Anche perché le indicazioni sono abbastanza semplici Una famiglia ha fatto lui danese Che sta in un supermercato Che hanno tantissimi Hanno tre bambini e tante pecore eccetera Certo questo qua magari nel ventunesimo secolo Fa un po' sorridere Pensare che dobbiamo ancora dare le indicazioni così Anche se però È importante questo Nel ventunesimo secolo Grazie alla tecnologia Noi possiamo raccogliere dati Costruire mappe Far apparire mappe E il progetto di cui vi parlo Il progetto che si chiama OpenStreetMap Dove l'idea è quella Che le persone Allo stesso modo con cui hanno costruito Wikipedia Con l'enciclopedia Possono raccogliere dati in quel modo E costruire una mappa In questo caso la mappa di Trento Ma non solo Questo qua è un esempio Spero che si veda bene Perché la luce non aiuta mai Di quello che è la differenza tra La mappa Che abbiamo Su OpenStreetMap E quella Di Google Allora molto probabilmente Quella più a sinistra È quella che vi piace di più Perché forse è più facile da leggere E quella a cui siete più abituati Però quella più a destra Dovete interpretarla in un altro modo Al di là dell'immagine che c'è sopra Perché è anche molto ricca di informazioni Dovete interpretarla come il tempo La generosità delle persone Che hanno dedicato per raccogliere dati E per fare quella mappa Quindi Stanno costruendo qualcosa Che è molto di più di una mappa Stanno costruendo un bene comune Perché quei dati lì Che costruiscono la mappa Possono essere usati da chiunque E infatti Per farvi capire Che sono dati E non mappa Se andiamo a prendere Uno dei tanti elementi Che sono rappresentati in quel parco Ad esempio Il ristorante che si trova lì Oltre al simbolo Che troviamo sulla mappa Si trova molto di più Perché se andate a leggere Trovate le informazioni Su anche il tipo di cucina Che fanno C'è scritto Pesce Pizza Cucina regionale Trovate anche il nome Dell'azienda L'indirizzo E tante altre informazioni Com'è che gli utenti Raccolgono i dati Per costruire questa mappa Lo fanno in tanti modi diversi In questa immagine qua Di solito C'è un oggetto Che porta un sacco di curiosità L'oggetto che porta sempre Un sacco di curiosità È lo scontrino fiscale Lo scontrino fiscale Contiene un sacco di informazioni C'è l'indirizzo C'è la partita IVA Ma c'è anche la tipologia Di Tipologia commerciale Quindi gli utenti di OpenStreet Ma cosa fanno Raccolgono i dati Da ogni fonte Che possono fare Lo fanno Attraverso strumenti classici Come può essere il computer Come può essere il GPS Possono farlo attraverso Il ricalco di una foto aerea Possono farlo attraverso Tutte le informazioni Che riescono a trovare Come vedete È rappresentato anche Un block notice Perché è quello A che fare con la conoscenza locale Il fatto che comunque Io posso vedere Il lavoro fatto da un'altra persona E aumentare il nome Un esempio che riporto spesso Molto tempo fa È entrato mio collega americano In un ufficio E mi ha detto Scusami Dove si trova Piazza Italia? E io avendo una mappa Dietro la schiena di Trento Ho subito indicato Dove è Piazza Italia Lui mi ha levato il dito E mi ha detto Guarda che c'è scritto Piazza Cesare Battisti Però il messaggio Che aveva ricevuto sul telefono Era stasera Ci troviamo in Piazza Italia D'altronde Piazza Italia È il nome Vecchio della piazza Che comunque ancora Le persone di Trento usano In OpenStreet Ma possiamo aggiungere Anche questo nome Quest'altra trasformazione E quindi possiamo arricchire Quella mappa Con tante fonti diverse Se volete capire Come contribuire Se questo progettino carino Capisco che è in inglese Però non è così difficile Che dice Quale strumento vuoi utilizzare Per contribuire E vi dice Sono una persona Che ha appena iniziato Intermedio Avanzato Esperto Dopodiché Il messaggio successivo È quanto tempo Vuoi dedicare 5 minuti 20 minuti Un giorno E l'ultimo messaggio È dove Se vuoi farlo in casa Oppure vuoi farlo da remoto E lì praticamente Vi suggerisce I tanti strumenti Che OpenStreet Ma mette a disposizione Per andare a migliorare La mappa In tanti modi diversi In questo caso qua Vedete Presenta due esempi Che sono La mappa per raccogliere Le informazioni Se sui tetti C'è Il pannello solare E quindi Semplicemente vuol dire Guardami una foto aerea Se vedi che il tetto Ha un pannello solare Aggiungi questa informazione Oppure Andare ad aggiungere Informazioni Sull'accessibilità Per i disabili motori Ci sono anche Giochettini carini C'è ad esempio Questo street complete Che voi lo installate Sul vostro telefono E comincia a darvi Delle missioni Vi inizia a dire Mi dici per cortesia Come è il pavimento Di questa strada Cos'è il nome E oltre le informazioni Che non fanno altro Che arricchire La mappa Con ulteriori dettagli Facendovi anche Curiosamente Farvi conoscere meglio La città Un altro progetto È quello corte Dove lì È abbastanza simile Con la differenza Che siamo in gara Allora io sono stato qua Ho detto che c'è questo Corretto nome Anche lui l'ha fatto E quindi siamo in competizione Poi alla fine Dopo che tante persone Hanno dichiarato Questa piazza Si chiama in questo modo Il dato viene inserito Dentro Open Street Ma Ci sono anche cose Un po' più classiche Che a me piacciono un sacco Questo fill papers Praticamente Voi andate su questo sito Disegnate un'area Che è l'area Che volete stampare Che dovete raccogliere i dati E vi genera la mappa Come vedete Questa mappa È rappresentata Con questi punti neri E con quel QR code E con la macchia Che c'è lì Ma la cosa interessante Cos'è Voi potete dare Quella mappa A delle persone E chiedere di arricchirla Di informazioni Ad esempio I nomi delle strade I nomi del negozio Tante altre informazioni Vi dico solo Che questo È usato tantissimo Nei momenti di emergenza Ad esempio C'è stato un terremoto Dato che magari Ho problemi Con l'antenna gps Che non prende Se a tratto Ti do la carta Ci scrivi sopra Scritto sopra Lo riportate Nel vostro ufficio Lo trasformate in digitale Lo caricate Sul sito E ve lo trovate Come sfondo Da cui dovete andare A ricalcare A ricopiare Quello che c'è scritto Quindi Anche bello Che all'interno Di questa comunità Nascono sempre Un po' di innovazioni E chi sono le persone Che ci sono A Trento Che stanno collaborando Qualcuno Lo vedo qua in sala Magari siete curiosi Di sapere Dove stanno Cosa fanno Beh Questo qui È uno dei personaggi Purtroppo Non mette la fotografia E pertanto Non mettendo la fotografia Non vi dico neanche Come si chiama Però PK79 Si fa chiamare Vi dico solo Che l'ultimo Inserimento Se guardate in basso A sinistra Lì L'ha fatto Il 13 aprile Ed è una persona Che è molto attenta Che è una delle persone A cui dobbiamo In parte ringraziare Per il fatto Che la nostra mappa Di Trento È sempre aggiornata Il comune di Trento Comunque Fornisce una serie Di dati utili Che possono essere Usati per creare mappe C'è una sezione Che riguarda Tutti gli open data Trovate ambulatori Biciclette Trovate anche le foto aeree Le trovate Del 2012 2014 2016 E pensate Che sono A risoluzione 10 cm Tant'è che lì È sempre Il parco di Melta E sul parco di Melta In fondo C'è il campo da calcio E ci vedete le persone Che stanno giocando Per assurdo Uno potrebbe iniziare Anche se vede i punti Le persone che giocano Ma non è il caso Che ci interessa In questo momento Però È una grande risorsa Che il comune Ha messo a disposizione Aiutando a incrementare Questo bene comune È vero che Il comune raccoglie dati E genera le sue mappe Il comune decide La toponomastica Tant'è che io Odio A morte Quando vedo Dei comuni Che usano la mappa di Google E domando Ma scusa Ma il nome della strada Lo decide un'azienda americana O lo decisi tu Se sei tu che lo decidi Forse è il caso Che usi la tua mappa Se non puoi usare la tua mappa Usa almeno una mappa Che è un po' più neutrale Come quella di OpenStreetMap Quindi Il comune Ha un po' di dati Ma non li ha tutti Perché in alcuni casi Strade private Non le raccoglie Determinata informazione Ad esempio Non è il caso di Trento Però ci sono alcuni comuni Che si pongono il problema Il parcheggio per disabili Lo posso rendere pubblico Sì o no Sappiate che alcune pubbliche amministrazioni Non lo vogliono rendere pubblico Perché Eliminiamo dal messaggio I grandi parcheggi Come quelli di un supermercato Che lì per legge Ci devono essere Ma quelli privati Spesso sono assegnati Delle persone E allora mi dicono Alcune pubbliche amministrazioni Non tutte Che per tutela della privacy Non devono distribuirli La gente in OpenStreet Ma qui invece li raccoglie Poi dopo il confine Anche labile Perché alcune volte Ad esempio in OpenStreet Ho trovato tutte le piscine Che vengono viste E anche lì magari Qualcuno vuole che si sappia Però Il comune poi Ha anche fatto questa cosa carina In questi giorni Il motivo per cui Fino adesso vi ho mostrato La mappa di Melta Perché l'altro ieri Si sono trovati Un gruppo di ragazzi A Melta di Gardola Per iniziare A raccogliere dati Quel gruppo di ragazzi Lì sono andati in giro Sono partiti Hanno raccolto Un po' di punti di interesse Li hanno presi E la cosa che mi fa piacere Purtroppo non hanno usato Gli strumenti di OpenStreet Ma mi fa piacere Il fatto che hanno cercato Di raccogliere dati Secondo le regole Di OpenStreet Quindi Quindi il passaggio successivo Sarà semplice Portare quei dati Dentro OpenStreet Ma per allargare Questo bene comune Per tutti quanti Un altro progettino carino Che potete usare Se volete Far apparire la mappa È questo Mapillary È un progetto Di un'azienda svedese Però con un pizzico Di nota d'orgoglio Vi dico che Uno dei sviluppatori Mapillary Sta lavorando Su Apovo In FBK Ha un contratto Con Mapillary E con FBK E due giorni A settimana Sta in FBK Lo fa per Aggiornarsi Su quelle che sono Le nuove tecnologie Lo fa per Farsi contaminare Della ricerca E creare un dialogo Con le aziende Mapillary cosa fa? Voi andate In giro Col vostro telefono E fate Quello che fa Google Street View Solo che lo fate voi Ed è interessante Anche perché Vi permette di andare Dove Google Non va Percorsi di montagna Funi vie Raccoglie anche In periodi diversi Dell'anno Aspetto che finisca Io ho iniziato Da dieci minuti Penso Adesso mi varia il tempo Provo a proseguire Provo a proseguire Ditemi Penso che finisca Ah c'è una domanda Dopo Ha degli appunti Su quello che lei dice Sì 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 Grazie Allora faccio un passetto Indietro E vi ricordo Cos'è Mapillary Mapillary è la possibilità Per tutti Di fare quello Che fa una multinazionale Come Google Per raccogliere fotografie Georeferenziate E quindi rendere a chiunque La possibilità Di visitare un luogo Da casa Però Mapillary Fa molto di più Perché se guardate Questa fotografia qui Vedete che ci sono Dei cartelli gialli Sopra i cartelli stradali Mapillary usa Sistemi di intelligenza artificiale Per riconoscere Gli elementi presenti Sulla fotografia Tant'è che se guardate L'immagine Quella più scura Vedete il percorso Che ha fatto la persona Che è andata in giro Con il suo telefono Vedete anche Che sono stati raccolti Dei punti Quindi che succede Voi andate in giro Con questo telefono Lo portate a passeggio Niente di che Ok vi consuma la batteria Lo ammetto Però Scattate delle fotografie Create ancora un'altra volta Un bene comune E create delle immagini Che raccolgono Delle informazioni Che possono essere Riusate nuovamente E sono utili Non solo per creare mappe Ma per creare anche Altri oggetti E questi qua Sono i primi output Che potete vedere Ad OpenStreetMap Se andate sul sito www.openstreetmap.org Trovate una mappa Però Quella mappa Come dicevo prima Lo ripeto anche perché Sono aumentate le persone Molto di più di una mappa Perché voi potete prendere I dati Che hanno generato Quella mappa E allora qua Nascono delle mappe Più interessanti L'OpenTopoMap Che è una mappa Topografica E come vedete Quella Watercolor Che è una mappa D'effetto acquarello Che copre tutto il mondo Magari qualcuno Mi dice Ma che me ne faccio Di una mappa Watercolor D'acquarello A parte che È stampata Anche nei progetti Qua di Smart City Week Che viene usata Per il progetto Climb Ma soprattutto C'è una mia amica Che a un negozio Ha iniziato A creare la carta da pacco Con quella mappa lì Mettendo la mappa Della sua città Di Falconara Marittima Altri oggetti Poi dopo Un sacco di applicazioni Per smartphone Io ci tengo tantissimo A Osmond E all'ultimo Maps.me Perché mi hanno salvato Tra virgolette Il primo Ero a Cambridge Al tempo C'era discorso Che il roaming Si pagava Quindi Ho scaricato i dati Da OpenStreetMap Della zona dell'Inghilterra Abbiamo fatto Un piccolo errore Abbiamo sbagliato Autobus Siamo usciti Alla fermata successiva Tre chilometri dopo Alle 11 di sera E dovevamo tornare indietro Ho acceso Osmond Ho messo la posizione Di dove volevo andare Non so se siete mai stati A Cambridge Ma ci sono tantissimi giardini E Osmond Mi ha guidato Per tutti i giardini Che le persone di Cambridge Hanno disegnato E sono arrivato davanti Alla porta Del posto dove dovevo andare Maps.me Mi ha aiutato L'estate scorsa In Giappone Perché io giapponese Non lo parlo Non lo leggo Maps.me Mi dà la mappa Ma me la dà anche Con i testi Che li posso capire Nella mia lingua Altre mappe Che potete usare Questo Map Osmatic E Orienteering Map Nella mappa Nella mappa Nella mappa Nella mappa Mappa lì Che come vedete La mappa Ha un grigliato Ci sono sopra Le lettere e i numeri E sotto c'è Quello che era Il tutto città di una volta Che penso che qualcuno Si ricorda Via Brennero 4C Ok Altre di queste cose Provate a pensarlo Se iniziamo a farlo Su piccoli quartieri O piccoli paesi E questa cosa qua Vi farà un po' paura Ma è gratis Così come questi oggetti Questi non sono proprio gratis Però c'è gente Che si diverte un sacco A usare Le mappe di OpenStreet Ma per fare oggetti Da rivendere Vi ho raccontato Prima di un'amica Che usa La mappa Watercolor D'acquarello Per fare pacchi Qua vedete Un po' di oggetti Ci tengo molto A quella borsa Perché Mi hanno chiamato a Torino A parlare appunto Di OpenStreetMap Un anno dopo Sono tornato a Torino In mezzo alla sala Arriva una signora E mi dice L'altra volta che hai parlato Mi hai dato una grande idea Adesso ho fatto una start up Ho fatto un'azienda Che si chiama Dressmap Ti diamo borse Ne copelle Con la mappa Della tua città La prima cosa che ho fatto Ho comprato una borsa L'ho regalata a mia moglie Mia moglie è cinese Quando è arrivata All'aeroporto in Cina L'hanno guardata E le hanno detto Ma dove trovate Una mappa di Dallian Sulla borsa Lei in Italia Come in Italia In Italia conoscono Dallian Erano abbastanza stupiti di questo Altra cosa Che vi permette di fare È di Questa raccolta di questi dati Di creare delle mappe Che potete aumentare L'esperienza Per i non vedenti Questa qua Volevo farla di Qua di Di Trento Anche perché qua dietro Come sapete C'è un modellino 3D Per farvi vedere Che è uguale L'unico problema È che non ho stampante 3D Allora vi avrei presentato Un modellino Che non era molto bello da vedere Ci diciamo Mappare Fammi apparire Allora OpenStreetMap È un grande database Dove sono raccolti i dati Che le persone stanno inserendo A un certo punto Voi potete dire Ma OpenStreetMap Per piacere Mi dai dove sono tutte Le fontanelle dell'acqua Che ci sono a Trento Ed eccole lì Adesso non ve la racconto tutta Ma su questo sito Dico la parola magica Amenity Uguale drinking water E mi dà tutte le fontanelle Che ci sono a Trento Che sono state inserite In più mi permette Di scaricarle In vari formati Tra questi anche i formati Che potete caricare Sul vostro GPS Sul vostro telefono E quindi potete andare A trovare tutte le fontanelle Dall'acqua Ma non c'è solo quello Un'altra cosa che mi piace Tirare fuori Ne tanto È le panchine Che sembra un po' strano Però sappiate Che molti comuni Non hanno i dati Delle panchine In OpenStreetMap Non solo Avete due sole panchine Ma addirittura Vi dicono anche In che materiali Sono fatte Se non lo schienale Che per uno vedente È sapere che lo schienale È molto comodo Bene Io concludo qua Se avete domande A posto Perché so che C'è un altro panel Subito dopo E dopo ho dovuto Interrompermi con le campane E immagino che un po' di persone Sono arrivate in ritardo Magari hanno qualche domanda Se non c'è Io mi fermo qui Domande? Allora vi ringrazio Anche i bani pubblici Sono appati E tra l'altro Mi fa venire in mente Una cosa molto carina Tutto il movimento Open Data Che sono persone Che dicono Il patrimonio informativo pubblico Quindi tutti i dati Che ha una pubblica amministrazione Devono essere disponibili A tutti Per qualsiasi scopo Bene La città di Vienna Questo nel 2010 Ha detto Dobbiamo Facciamo l'open data Ci sarà mercato Eccetera La prima applicazione Che ha avuto successo Ma che hanno usato tutti i vienesi È stata quella Dove sono i bani pubblici Perché Vienna Ha messo fuori Quell'informazione La cosa poi carina È che La comunità di OpenStreetMap Ha migliorato l'informazione Perché si Metto il bagno pubblico Spesso e volentieri Un dato Mi serve Per quell'obiettivo lì Quindi Ponto probabilmente Bagno pubblico Mi serve sapere dove si trova E basta Però la gente di OpenStreetMap Cosa fa? Lo migliora E aggiunge informazioni Ad esempio Maschi Femmine Se c'è anche Per i bambini Se c'è Se ha pagamento Quanto costa Tutte altre queste informazioni qua È chiaro che mantenere questo Costa Però Ci sono tante cose Di cui le persone si fidano Stamattina Avevo un altro Appuntamento a mezzogiorno E raccontavo che In Nicaragua Aveva dichiarato guerra Alla Costa Rica Perché Google Maps Aveva disegnato Il confine sbagliato E aveva toccato Un tema Vecchio E aveva ripetuto C'è tanta gente Che si fida di tante mappe E dopo ha paura Delle mappe Che le persone possono costruire In maniera collaborativa Perché dietro Per me La parola chiave Di tutto questo Quando costruiamo mappe In maniera collaborativa È che stiamo creando Un bene comune Ed è questo qua Il messaggio più importante Che si porta dietro OpenStreetMap L'ultimissima cosa Che ci tengo a dirvi Perché ce l'avevo in testa Ma me lo sono dimenticata Ci sono un paio di aziendine Che stanno usando OpenStreetMap In maniera molto pesante Allora Una vi dico il nome Che probabilmente Lo conosceranno Chi del settore Si chiama Mapbox Box Map Capiamo cosa fa Chiaramente il suo settore Ma le altre due Una si chiama Facebook E l'altra si chiama Apple Un'altra anche si chiama Microsoft Che succede? Facebook Ha delle mappe Le presenta queste mappe Sul suo sito Se la mappa Gli rapproduce Un terzo componente Quello che c'è sulla mappa L'ha deciso quell'altro Quindi dato che Facebook Guadagna sulla pubblicità Anche la mappa Diventa strumento di pubblicità E se ve lo fanno terzi Veicolano altri messaggi Allora Facebook da qualche anno Costruisce le sue mappe E come lo fa? Con i dati Che va a comprare Da altre aziende Lo va a comprare Da altre aziende Allora sull'Europa Magari non ce ne accorgiamo Perché ci sono molte aziende Che fanno questo lavoro Ma altre parti del mondo Non è così Ad esempio In Thailandia Non c'è nulla Iniziano a usare OpenStreetMap È poco Cosa fanno? Cosa stanno facendo? Hanno stretto un accordo Con DigitalGlobe Che è un'azienda Che fa foto satellitari Immagini satellitari Utilizzano L'intelligenza artificiale Per estrarre Dalle fotografie Le strade A quel punto Generano questi dati grezzi Questi dati grezzi Li vanno A migliorare Internamente fra di loro Usando uno strumento Fatto da Apple Da un'altra azienda E a quel punto Risistemato questo grafo Eccetera Chiedono gli utenti di Facebook Di confermare I nomi delle strade Quello che loro fanno Chiaramente loro Nel loro interesse Però tutto quel patrimonio Che stanno raccogliendo È disponibile a chiunque Perché dentro OpenStreetMap Apple fa un passettino in più Perché Apple Non ha necessità Come Facebook Di farvi vedere Solo la mappa Apple ha un prodotto Che vi aiuta A muovervi Vi dà Il sistema Si dice di routing Voglio raggiungere La piazza Duomo Voglio andare a piazza Fiera Che strada devo fare Allora Ha bisogno Di un grafo Che sia fatto bene E quindi hanno creato A loro volta Uno strumento Che verifica Che i dati inseriti Degli utenti Di OpenStreetMap Siano corretti Dal punto di vista logico E quindi contribuiscono Anche loro A migliorare Questa cosa qua Ecco Sono altre domande Sono qui Altrimenti li chiudo Dica Prego I defibrillatori Sì I defibrillatori I defibrillatori Sì Sono censiti I DAE Sono censiti Poi in realtà Dipende sempre Dalle persone Nel senso Che quello Noi siamo fortunati Che Trento Ha una comunità Molto attiva Dentro OpenStreetMap Tra l'altro Non vi ho detto Che contribuiscono Inserire dati Dentro OpenStreetMap Sono al momento 4 milioni di persone Che hanno fatto Almeno un edit Un inserimento Dopo di attivi In Italia Ogni giorno Ci sono 200 persone Attive Che inseriscono Chiaramente È macchia di lopardo Questa cosa Un'informazione In dettaglio Come quella Dei defibrillatori È un'informazione Che dipende Dalla comunità Però Visto che L'è la pena lanciato Perché non proviamo A creare una comunità Di persone Che iniziano a raccogliere Questo tipo di dato Ci sono delle realtà In giro per il mondo Che usano OpenStreetMap Per fare un sacco Di queste azioni qua Per raccogliere dati Perché si fidano Del fatto Che più persone Vedono un oggetto E più quell'oggetto Sarà tutelato OpenStreetMap È anche molto usato In campo umanitario Ogni volta che accade Una catastrofe naturale Interviene un gruppo Che si chiama OT I Humanitarian OpenStreetMap Team E propone Alle persone Di andare A raccogliere dei dati Loro iniziano A prendere foto aeree A giornate E chiedono Alle persone Disegnare le strade Disegnare gli edifici Per poi dare questi dati Ai soccorsi Tempo fa Quando c'è stato Il terremoto del Nepal Con la biblioteca Comune del Trento Abbiamo organizzato questo Eravamo una cinquantina Di persone Ammetto che mi sono Anche commosso Perché stavamo aiutando Il mondo Altre domande? Vuoi che spiego Dato che questi giorni Qua praticamente Questo è il mio quarto talk Su mappe Un intervento che ho avuto È stato ieri Con la biblioteca comunale In realtà Ringrazio Giancarlo Per avermi detto questo Perché vedo Che sono molte persone Interessate sul tema Con la biblioteca comunale Abbiamo fatto Una serie di progettini Ma in maniera Molto amichevole Senza in alcun Formalizzato nulla La biblioteca comunale Eusebio Apparrotto La responsabile Un giorno Si è innamorata Di Wikipedia E ha iniziato A usare un progetto Che si chiama Wikisource Dove si prendono Dei libri Passati con lo scanner E si trascrivono Quando è iniziato Questa cosa L'ho fatto Con servizio civile Volontario E è successo Che in mezzo Ai libri trascritti C'era un libro Di Cesare Battisti Sulla geografia del Trentino Mi ha detto Maurizio Guarda che ci sono Delle mappe Vale a guardare Ho trovato una mappa Di Trento La prima cosa Che ho fatto L'ho presa E l'ho georeferenziata Quindi quell'immagine lì Gli ho dato Il potere Di sapere In quale parte Del mondo si trova Come se fosse Un foglio Che appoggio A quel punto Ho costruito Un paio di visualizzazioni E quella più carina Che non posso farvi vedere Qua è Un cerchio Che spostate Sopra la città di Trento E dove lo spostate Vedete come era la città Un secolo fa Secondo la mappa Di Cesare Battisti Quindi si vedono Un po' di cose Come ad esempio Il fatto Beh la mappa In italiano Non si trovano i nomi Dei personaggi Del sorgimento Via Garibaldi Via Mazzini E tante cose Si vede L'Adigetto Non si vede l'Adige Da Trento Malè Che arrivava fino A Piazza Silvio Pellico Eccetera Questo poi Ha scatturito Un'ulteriore idea All'interno Della biblioteca comunale E proprio ieri Hanno presentato Una cosa spettacolare Sono Dei libri Così Alti così Sono quattro O cinque È un atlante Del mondo Del 1700 Cosa hanno fatto Hanno digitalizzato Tutte le mappe Quindi sono diventate Immagini E ieri Abbiamo fatto Un laboratorio In cui abbiamo preso Queste mappe E abbiamo fatto Lo stesso lavoro Che ho fatto Sulla mappa Di Cesare Battisti Solo che prima Ero da solo Stavolta eravamo in 30 Il risultato è che Adesso abbiamo Queste mappe Che possono essere usate Come sfondi Per raccogliere dati Chiaramente Di quel periodo lì E per poterli confrontare Col periodo di adesso E ringrazio Giancarlo Per avermelo ricordato Altre domande? Sono domande E vi ringrazio Ringraziamo quindi Maurizio Napolitano Della fondazione Bruno Kessler E vi ricordo Che oltre a queste due sale Ci sono anche Degli spazi espositivi Della fondazione Anche Dove potrete Mettervi in gioco Con Climb Al Trento Smart City E creare il TAC Cloud Di questo evento E a breve Inizierà il prossimo intervento Sempre qui alla sala 1 Grazie 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 Grazie. 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 Riprendiamo i lavori qui alla sala 1 e lo facciamo con uno slot dal titolo Big Data e politica. Prego. In un mondo ideale la discussione sugli interventi in materia di politiche pubbliche partirebbe dal dato. Il dato che mi dice è che c'è un problema su cui devo intervenire. In un mondo ideale o in una smart city ideale il ruolo degli amministratori sarebbe quello di proporre degli interventi di politica pubblica come degli esperimenti. Io definisco degli indicatori, degli obiettivi, provo a fare degli interventi, verifico se le cose effettivamente funzionano. Se non funzionano ritento in un altro modo. Non siamo in un mondo ideale, siamo in un mondo reale. Io sono Daniele Miorandi, amministratore delegato di Uoper e questa sera parleremo di Big Data e politica. Quindi come il dato può aiutarci a governare, ad amministrare in maniera migliore una città smart. Ovvero la smart city non è solo per il cittadino ma è anche per l'amministratore. Abbiamo un panel piuttosto corposo, come vedete per ragioni di sicurezza non possiamo metterli tutti sul palco. Abbiamo qui rappresentati il mondo della ricerca. Giuseppe Veltri, professore al Dipartimento di Sociologia Università degli Studi di Trento e con un passato al JRC della Commissione Europea. Bruno Lepri, che guida un gruppo di ricerca MOBS presso la fondazione Bruno Kessler ed è un membro della Data Pop Alliance, creata dall'MIT per usare i dati per creare delle società più intelligenti. Abbiamo il mondo dell'innovazione. Abbiamo Francesco Bonadiman, IIT Digital e uno delle anime dell'associazione Spec & Tech. Abbiamo Maurizio Napolitano, FBK, che probabilmente avrete già sentito parlare oggi in qualche altro slot, esperto di Open Data e che oggi ci porterà anche l'esperienza degli amici di Open Police, se ho ben capito. Abbiamo anche il mondo delle aziende, Nicola Cracchi Bianchi, Deda Group, SPA, divisione Public Services. Per riportarci poi con i piedi per terra abbiamo chi le dinamiche dei consigli comunali, comunque delle amministrazioni locali, le vive sulla propria pelle tutti i giorni. Quindi Romina Menapace, vice sindaco del comune Vile d'Anaunia e la padrona di casa, Chiara Maule, assessore alla partecipazione, innovazione, progetti europei e mi sono perso qualcosa, semplificazione, grazie Francesco, del comune di Trento. Doveva essere con noi anche Andrea Maschio, consigliere del comune di Trento in quota Movimento 5 Stelle, ma purtroppo si scusa, ha avuto un incidente in macchina e quindi non riesce ad arrivare. Bene, io partirei un pochino dal mondo ideale, quindi magari con Giuseppe. Cosa effettivamente i big data potrebbero fare per aiutare un governo, un'amministrazione migliore della città? Buonasera. Sì, posso partire un po' dalla mia esperienza, che è stata quella di lavorare nell'ambito della ricerca per fornire una base di dati e di evidenza empirica per il processo di policy, quindi la creazione di politiche pubbliche a livello europeo, quindi nel mio recente passato nella Commissione europea. Quella che in termini internazionali viene chiamata la evidence-based policy, cioè le politiche pubbliche basate sull'evidenza. Ora, tradizionalmente, chi si occupa di scienze sociali ha sempre avuto un grande problema, cioè raccogliere dati è sempre stato molto difficile e soprattutto molto dispendioso da un punto di vista anche delle risorse, per cui la capacità di raccogliere dati per poter creare una base solida di conoscenza su cui poi fare il design delle politiche pubbliche è sempre stato molto molto difficile. Soprattutto, per via di queste difficoltà, lo si faceva fondamentalmente in due fasi. Quella che era la fase chiamata ex-ante, cioè si facevano delle raccolte dati per ipotizzare quale fosse l'impatto di un nuovo intervento di politica pubblica prima di lanciarla, o lo si faceva ex post, cioè una volta lanciata una politica pubblica si valutava l'impatto della stessa per vedere se stesse funzionando o no. Questo processo impediva di fare una cosa che adesso, con la disponibilità dei dati che ci ritroviamo in un contesto in cui raccogliere dati è diventato molto meno costoso, la disponibilità di dati è diventata molto più ampia, prima non era possibile monitorare la performance di un intervento di politica pubblica, mentre questo era in corso. Quello che adesso è possibile fare è proprio questo, cioè avere l'idea di un processo di policy che non termina nel momento in cui semplicemente lo si lancia, ma avere l'idea di un processo iterativo per cui una volta che si fa un intervento di politica pubblica si fa un monitoraggio costante di ciò che sta accadendo per poter fare dei correttivi se necessari durante il dispiegamento di questi interventi e quindi per evitare gli effetti indesiderati. C'è da dire che l'idea delle riforme come esperimenti è un'idea che ha una sua traiettoria storica, che nasce negli anni 60 da un signore chiamato Donald Campbell che era uno psicologo sociale americano che fu il primo a sostanzialmente argomentare sul fatto che dal suo punto di vista raccontava il fatto che non esiste niente di più costoso che una politica pubblica sbagliata e che quindi tutti i costi che ci sono per prima valutarne l'impatto, fare delle sperimentazioni sono giustificati dal fatto che se si fa una politica pubblica sbagliata i costi sono molto superiori rispetto ai costi di fare in maniera preventiva un po' di sperimentazione. L'accesso a un'enorme quantità di dati che prima non era disponibile sia nella loro varietà che nella loro quantità quindi i cosiddetti big data rende possibile introdurre sempre di più questa parte di sperimentazione, valutazione degli effetti delle politiche pubbliche nel processo di design di policy e questo è l'aspettativa ideale come giustamente è stata definita prima che stenta a essere diffusa ovunque in Europa abbiamo alcuni esempi in cui questo già avviene i famosi paesi scandievi che sembrano essere bravi a fare tutto fondamentalmente ma anche a livello europeo dove pochi sanno che insieme ai vari DG che sono fondamentalmente come dei ministeri esiste un DG il cui unico scopo è quello di studiare raccogliere dati sia sull'impatto sia sulle sperimentazioni di politiche pubbliche a livello europeo regolamentazione a livello europeo per farvi un esempio a fine maggio entrerà in vigore il cosiddetto GDPR il General Data Protection Regulation la nuova regolamentazione europea sulla privacy l'intervento di politica pubblica si basa su alcuni studi tipo comportamentale a cui ho partecipato anche io su come le persone gestiscono la propria privacy online quindi una serie di esperimenti una serie di raccolte dati fatte in vari paesi europei e questo ha poi portato alla regolamentazione che è stata approvata dal Parlamento europeo quindi mi fermirei qui così ti fermo qui anche perché se cominci a parlare di GDPR poi Bruno comincia a parlare di Cambridge Analytica e usciamo un po' Bruno venendo a te dato che la tua ricerca si basa in gran parte sul fatto di raccogliere i dati ed analizzarli quindi Giuseppe diceva una delle difficoltà storiche è proprio quella di avere questi dati quindi questi dati ci sono? non ci sono? i dati oggi intanto grazie mille per l'invito i dati oggi ce ne sono a disposizione molto di più di quelli che c'erano fino a pochi anni fa e questo è dovuto essenzialmente alla digitalizzazione della nostra società quando praticamente paghiamo con una carta di credito lasciamo come informazione il luogo dove abbiamo fatto l'acquisto il tipo di acquisto che abbiamo fatto quanto abbiamo speso quando utilizziamo il nostro cellulare siamo è possibile tracciare i luoghi che frequentiamo la rete di comunicazione che abbiamo e quindi ricostruire i comportamenti giornalieri delle persone sono sempre più digitalizzati anche molti servizi quindi ci sono moltissimi dati di diversi aspetti del comportamento umano una delle cose che con il mio gruppo di ricerca e non solo con il mio gruppo di ricerca anche con questa NGO che si chiama Data Pop Alliance che è un NGO che ha fondato MIT Media Lab è un gruppo di Harvard il gruppo Harvard Humanitarian Initiative quello che facciamo essenzialmente è utilizzare questi dati per risolvere alcune delle sfide sociali nei paesi soprattutto nei paesi in via di sviluppo o comunque non completamente sviluppati uno dei progetti che stiamo facendo è in Colombia ed è un progetto fatto direttamente con il governo colombiano e con sei sindaci delle maggiori città delle maggiori città della Colombia dove in questo caso l'obiettivo è da una parte creare nuovi strumenti per predire nei diversi quartieri delle città il livello di sicurezza e il crimine e anche identificare con insieme con la partecipazione della politica e della comunità quali sono le politiche che possono essere implementate per ridurre i livelli di crimine ad esempio anche alcuni cambi semplici cambi infrastrutturali una delle scelte che ha fatto la città di Medellin alcuni anni fa e che hanno trasformato alcuni quartieri è stato quello di connettere alcune favelas utilizzando un metro cable una funivia con il centro della città questo modo ha permesso della gente che non riusciva ad andare a lavorare quando pioveva di poter raggiungere le aziende e andare a lavorare e ha permesso ai turisti di poter entrare in questi posti dove non erano mai entrati e questa è stata una scelta che ad esempio viene fuori anche da alcuni dei nostri studi naturalmente ci sono anche rischi però di questo magari se ne può parlare dopo certo Maurizio tu diciamo da paladino locale degli open data come li vedi diciamo in questo processo il ruolo degli open data perché molto spesso sentiamo parlare di open data però sono dati che sono diciamo generati o comunque esposti dalla pubblica amministrazione mentre qui stiamo parlando della pubblica amministrazione come utilizzatore di dati a parte che gli open data nascono anche da una direttiva europea che si chiama public sector information quindi l'informazione del settore pubblico questo patrimonio informativo del patrimonio pubblico e qui che è generato dalla PA per risolvere i suoi problemi di fatto per gestire quello che fa tutti i giorni quindi gli open data nascono soprattutto non soltanto poi in quell'ambito perché mi ricordo una volta un piccolo scontro con Bruno che dicevo una volta che do il permesso di aprire dati sono open data non è che sono per forza quelli della pubblica amministrazione e tu hai detto a livello locale ma in realtà ho spaccato abbastanza le scatole a livello nazionale e internazionale sul tema non volevo sminuirti no ma non è quello però questo è per dirti che mi ha portato a vedere molte situazioni perché è vero quello che si raccontava all'inizio però è anche vero che più scendi di livello amministrativo più il comune diventa piccolo e più dopo i processi che gestiscono i dati diventano sempre più complessi non tanto complessi perché uno dice inserisco i dati nel computer ma proprio che magari la persona che fa l'inserimento dei dati la mattina fa il bidello a scuola pomeriggio fa quel lavoro lì il giorno dopo sta facendo invece il bidello urbano per assurdo adesso chiaramente sto esagerando però spesso ci troviamo che quando chiediamo di aprire i dati in realtà stiamo ragionando sul discorso dei processi e questi processi vuol dire andare a cambiare come funzionano le cose in un sistema che è vecchio che è molto spaventato dalla responsabilità spesso volentieri si parla con un funzionario pubblico e la prima paura è di esporsi la paura è di stare all'interno delle regole di quello che deve fare quindi magari l'apertura del dato diventa una cosa molto lenta che poi alla fine produce quello che io chiamo junk data cioè dati immondizia che ne abbiamo tantissimi che non ci servono a niente al momento perché sono tante cose più di facciata o meno tant'è che adesso in Italia anche si è spinto per avere questa parola che fa un po' da un po' fastidio agli amministratori pubblici da fastidio foia poi come parola foia di persa in italiano cosa vuol dire Freedom of Information Act è stato copiato negli Stati Uniti questa legge per cui chiunque se vuole dati li va a chiedere alla pubblica amministrazione li deve restituire a prescindere che sia open non open e ci sono tantissime storie in cui questo foia non funziona non funziona perché non stanno uscendo perché vai a mettere il naso nei processi e queste cose non vanno avanti succede che il dato che volevi avere è su carta e tutti questi altri problemi di contro però ci sono dei dati interessanti che non escono perché magari sono protetti da un po' il dato a me fa sempre ridere quando dico che i codici di avviamento postale non sono open data i codici di avviamento postale ce li chiedono tutti i giorni quando dobbiamo riempire un modulo ci chiedono i cap se vogliamo avere l'elenco di tutti i cap e non dico un solo ma l'elenco di tutti dobbiamo andare da poste e poste ci dice paga e allora il ragionamento è poste ente privato che decide un dato infrastrutturale per la nazione e poi dopo si scopre che il ricavo da quelli dati là genera un sacco di valore per cui metti le persone che non lavorano più la stessa cosa vale anche per altri casi il catastro non per il trentino oppure la camera di commercio l'ultima cosa che voglio dirti ci sono dei casi in cui i dati escono però ci sono due casi il primo è che non se li guarda nessuno o se li guardano l'Elisa Simpson quelli che trovano interessante stare ad ascoltare il consiglio comunale senza sminuire nessuno però è qualcosa che porta via un sacco di tempo e sicuramente la gente prima che guardasse il consiglio comunale magari si guarda un film senza offesa per chi vive questa cosa tutti i giorni e dall'altra parte hanno un'incidenza molto bassa sono quattro anni che faccio parte dei ricercatori dell'open data barometer della web foundation e c'è sempre la domandina molto interessante conosci un dataset aperto nella tua nazione che ha avuto delle ricadute importanti a livello politico che ha avuto delle ricadute importanti a livello mediatico e la risposta è sempre no e vi faccio un solo esempio poi concludo dico solo la parola magica con SIP e penso che sapete che problemi ci sono stati non c'è nessuna storia che dice da quei dati là le storie che sappiamo sono nate sono scoperte da lì perché chiaramente dato che è stato pubblicato è bello confezionato che non nasconde il problema grazie Maurizio Nicola nella tua attività in quella che avete diciamo come data public services una delle cose che fate è quella di lavorare a stretto contatto con le pubbliche amministrazioni e comunque i fornitori di servizi pubblici e una parte importante è proprio quella di diciamo aiutarli a estrarre valore da dati che magari già hanno o che diciamo possono essere presi da fornitori di terze parti qual è un po' la tua esperienza su diciamo un pochino cominciare a fare questo bridge verso il mondo reale infatti mi collego a ci sono i dati ci sono le capacità di analisi le collaborazioni che facciamo anche noi con la ricerca la domanda diventa i comuni sono in grado di utilizzarli e penso sia i dati che vengono prodotti a livello comunale ma anche alle banche dati di livello nazionale che agganciandomi a quello che dice anche Napo spesso non ci sono non c'è il via civico ufficiale georiferito a livello nazionale ci sono basi dati che vengono gestite da agenzie nazionali che sarebbero utilissime per i comuni i dati di ENAIL i dati di IMS i dati sull'infortunio del lavoro le amministrazioni sanno quant'è difficile agganciarsi a quei formati dati e poterli integrare coi propri processi quindi per agganciarmi anche quello che diceva Piacentini l'altro giorno ci sono dei dati infrastruttura che non è solo la NPR che lo Stato dovrebbe mettere a disposizione questo oggi non avviene ancora per citare un altro argomento tutti i dati sui sistemi informativi ambientali e agricoli c'è il ministero dell'ambiente c'è il sistema informativo agricolo nazionale tutte banche dati che se oggi qualsiasi comune medio piccolo o anche evoluto vuole poter gestire impazzisce e si risolve con una richiesta di avere un dataset one shot scollegato da un processo quindi scollegato da un aggiornamento mentre per fare quello che dicevate prima se io devo definire una politica e devo monitorarla in corso ho bisogno che quel dato mi arrivi costantemente ben metadatato ben strutturato e quindi io posso ragionare di integrarlo con i miei processi amministrativi non diventa un onere in più diventa un pezzo del mio lavoro invece di guardare solo quello che devo decidere sulle politiche sociali oltre a vedere i dati qui ho in casa per citare un esempio vedo anche quali sono gli andamenti che mi arrivano da IMS e da Inel cito i dati Seattle sono complessissimi da utilizzare noi cerchiamo di metterci a metà fra ricerca e pubblica amministrazione gestire un dataset di Seattle in cui non so se lo si sa ma tutti i nostri consumi energetici di gas gli operatori li comunicano in Sogei sfido chiunque andare a guardare le tabelle dei dati Seattle noi abbiamo dovuto sviluppare dei software per poter rendere fruibili i dati che sono in Seattle e anche questi dovrebbero essere per ricollegarmi a quello che diceva anche Napo prima dei beni comuni che servono anche al territorio per definire le proprie politiche però città in altri casi oltre ai temi mobilità energia dove sono stati fatti grandi progetti alcuni li si sta raccontando anche in questi giorni quindi permettere ai comuni di avere degli strumenti facili a livello di dashboard e di integrazione per andare sui dati la disponibilità dei dati apre anche a un sacco di altre politiche ad esempio non a Trento che non è un problema rilevante però in altre città ad esempio l'utilizzo di dati di fonti diverse quindi il catastro non in Trentino non è aperto i dati di Siat e via dicendo per lotta alle infiltrazioni mafiose andando a vedere ad esempio compravendite sospette andando a vedere passaggi di proprietà in certe aree che hanno poi dei cambi di destinazione urbanistica quindi cose su cui da un certo punto di vista i comuni hanno il pieno controllo per quelli che li compete quindi erogare la possibilità di edificare piuttosto di convertire una destinazione urbanistica ma ad esempio non hanno accesso a tutti i dati del catastro delle compravendite o i dati della Camera di Commercio per sapere che su determinate aree come stanno andando i fatturati o le indicazioni economiche di quel territorio quindi io posso decidere di fare interventi di bonifica e di miglioramento di alcune aree però non sono totalmente autonomo come ente locale nel poter gestire tutte le banche dati che mi servirebbero per andare a monitorare questi andamenti quindi noi quello che stiamo provando a fare in vari ambiti uno è l'ambito energia tutti i comuni italiani abbiamo il record a livello europeo di definizione dei paesi i piani per l'ambiente e l'energia sostenibile la difficoltà degli enti è andare a monitorare il mid term review vedere se le azioni che hanno fatto quali effetti hanno avuto perché devono integrare dati di soggetti totalmente diversi le province le regioni il ministero dell'ambiente e molto spesso è difficile avere questi strumenti quindi come è stato fatto su NPR su alcuni dati che sono infrastruttura per il paese si potrebbe muovere anche a livello nazionale in queste condizioni noi quello che cerchiamo di fare è aiutare gli enti a poter governare la complessità di questi dati Chiara ti chiedo adesso di riportarci un pochino con i piedi per terra in un certo modo perché abbiamo capito che si possono fare delle cose bellissime si può migliorare l'efficienza del governo della città ma quanto questo mondo è lontano dalle dinamiche di un consiglio comunale che tu diciamo sperimenti e soffri probabilmente ogni settimana grazie anch'io buonasera a tutti grazie di questa bella opportunità allora qualcuno ha detto prima che anche la pubblica amministrazione ha un po' timore di tutto ciò che riguarda open data e big data io non posso che dire che è esattamente così questo tema della smart city che noi abbiamo portato in piazza e che io spesse volte ho detto serve a far capire alla gente dove stiamo andando rispetto a questo tenere dell'innovazione in realtà serve anche a chi fa parte delle pubbliche amministrazioni per fermarsi un po' a pensare a ragionare e a guardarsi anche un po' attorno rispetto a quello che di solito si fa si fa qui e si fa anche qua vicino a noi non è un tema facile teniamo conto che nelle pubbliche amministrazioni a Trento la media d'età di chi lavora dentro la pubblica amministrazione è di 49 anni quella della provincia è di 50 anni 51 ecco ieri sono andata a TSM che faceva un incontro aperto dentro la smart city week e c'era un rappresentante del comune di Torino e mi ha detto che la media d'età dei dipendenti pubblici del comune di Torino è di 54,6 allora immaginate che anche la pubblica amministrazione fa fatica a fare un salto dentro ma non perché non vogliano attenzione non sto dicendo che c'è qualcuno che non vuole o che marcia indietro semplicemente per ovvi motivi chi adesso ha 20 anni o ne a 25 o ne a 30 ha dovuto suo malgrado anche nel percorso che ha fatto l'università interfacciarsi con tutto quello che è questo nuovo modo di immaginare insomma i dati chi invece già da molto tempo lavoro dentro la pubblica amministrazione magari un po' in maniera consueta perché negli ultimi 20 anni non c'è mai stato un cambiamento così radicale così repentino fa fatica naturalmente a mettersi di fronte a tutte quelle che sono queste novità che arrivano quindi insomma il senso della Smart City era per dire che non è soltanto per i cittadini ma è anche per noi che facciamo innovazione poi tutto quello che hanno detto Foglia Trasparenza il CAD il comune di Trento ci sta lavorando su questa cosa nonostante la fatica noi premiamo molto per cercare di stare al passo con tutto quello che a livello nazionale le norme impongono spingono perché quella è la strada e quindi ci siamo sul pezzo certo che è sempre difficile trovare un equilibrio fra quello che è la trasparenza e quella che è anche la privacy per cui prima si parlava di catastro però immaginate per un'amministrazione comunale quanto sia difficile rendere open i dati che li vedono tutti e nello stesso tempo salvaguardare anche il singolo perché poi il singolo cittadino non è che mette in piazza tutto quello che è suo o quello che fa parte della sua sfera familiare dall'altra parte siamo spinti a rendere aperti i dati a renderli trasparenti quindi la sfida non è semplice però ripeto di questo stiamo anche parlando internamente più volte abbiamo anche avuto incontri specifici con l'ordine degli ingegneri ma non soltanto loro ma che spingono per avere open tutti i dati e dall'altra parte noi diciamo sì ma attenzione troviamo un equilibrio rispetto a questo l'altra cosa su cui dobbiamo lavorare molto è quello di mescolare questi dati noi magari ne abbiamo tanti ma un po' compartimenti stagni li raccogliamo il pubblico sappiamo tutti lavora tanto a canne d'organo quindi tante volte è difficile parlarsi tra uno e l'altro ufficio ancora di più riuscire a mescolare i dati con gli altri enti penso alla provincia per esempio faccio una battuta sul traffico sul movimento di quanta gente entra a Trento noi abbiamo i dati di chi entra e di chi esce con le macchine la provincia sa quanta gente sale e scende dagli autobus che circolano sarebbe molto interessante riuscire qualche volta a mescolare i dati alle volte riusciamo alle volte non riusciamo però in qualche modo sappiamo che quella è la strada poi per ultimo riprendo un po' un tema caro a Piacentini che quando è stato qui ha anche un po' presentato che è quella della migrazione su NPR tutti gli uffici anagrafi di tutti i comuni d'Italia sono chiamati in breve tempo a spostare i propri dati dell'anagrafe che se vogliamo il patrimonio più grosso che un comune ha e noi abbiamo tutto nascite ma tutto cambi di residenza eccetera ecco l'anagrafe dovrà essere inserita in un'unica anagrafe nazionale che potete immaginare avrà un vantaggio enorme perché soprattutto in caso di calamità naturali di qualche tipo si riuscirà fino all'ultimo andare a verificare chi c'è chi non c'è dove si è spostato certo che per fare questo tipo di lavoro che è comunque un lavoro sui dati ogni pubblica amministrazione deve fare dei passaggi interni vi racconto degli aneddoti noi avevamo 4.000 carte di identità che non erano allineate per poter passare su NPR semplicemente perché alcuni cittadini soprattutto più anziani avevano sulla carta di identità che erano nati a Povo che una volta era comune a Vilazzano che una volta era comune a Sopramonte che una volta era comune il dato noi dovevamo averlo pulito per poterlo trasferire questo ha significato per alcuni anche il cambio del codice fiscale quindi dal punto di vista del lavoro di movimento di tutto quello che comporta è stato un lavoro grosso ora Piacentini ci ha un po' sollecitato ha detto nelle città dove sono andato da lì a un paio di mesi sono migrati in MPR quando è che arriva Trento e noi gli abbiamo detto prestissimo dopo le elezioni probabilmente di ottobre vediamo se ce la facciamo Romina quando parliamo del ruolo diciamo dei dati dei big data a livello di politiche pubbliche spesso pensiamo alla grande città quale può essere il ruolo per un comune piccolo cioè grande come estensione come quello di cui sei vice sindaco ma che però a livello di popolazione è diciamo molto piccolo anche Trento su scala internazionale è un comune molto piccolo però diciamo è già una realtà diversa a livello di dinamiche di problematiche quindi pensi che ci possa essere del valore anche per i comuni medio piccoli allora il mio comune ha 4.900 abitanti quindi siamo in pochissimi e ci conosciamo praticamente tutti personalmente quindi effettivamente sentir parlare giustamente di fare politiche sulla base di dati per un comune come il mio può avere un senso ma molto limitato perché se voglio delle informazioni su cosa succede nel mio comune apro la porta chiedo alla mia vicina di casa che ha tutto sotto controllo e me lo dice lei quindi effettivamente mi sento un po' fuori luogo a parlare di questo argomento di recuperare le informazioni perché da noi il rapporto personale è evidente dall'altra parte però ovviamente siamo parte del gioco anche noi forse in un altro senso noi come comune produciamo tantissimi dati che sono sicuramente quelli che abbiamo citato tipo quelli dell'anagrafica ma poi tutta una serie di altri dati che sono in realtà nascosti dentro i documenti tutti i documenti che noi creiamo sono documenti creati probabilmente in word messi in pdf a volte anche stampati e poi scansionati perché magari in pdf uno magari può fare copia in colla e questo assolutamente per la pubblica amministrazione non va bene a volte mi capita di ricevere delle email anche da parte della provincia o del consortio dei comuni con nessun testo due allegati una la lettera di presentazione con un link lungo tre righe che devo non posso cliccare devo ricopiarlo con la tastiera per vedere a dove mi punta questo è il mondo in cui siamo immersi e dall'altra parte ci viene chiesto di essere smart noi come comune abbiamo deciso di fare un qualcosa per favorire la comunicazione e la partecipazione dei cittadini cioè la prima cosa per chiedere la partecipazione è quella di informare i cittadini su quello che stiamo facendo e quindi stiamo cercando di trasformare quello che è il nostro documento unico di programmazione da dove discende quindi il bilancio dove stabiliamo obiettivi risultati eccetera di trasformarlo in un dato aperto in modo che i cittadini possano valutare l'operato degli amministratori quello che effettivamente fanno quindi noi abbiamo già individuato per il nostro comune sono circa 203 obiettivi diversi ogni obiettivo ha il suo indicatore e due volte all'anno andiamo a misurare a che punto siamo 0% 25 50 75 100 con una motivazione il problema è che adesso non abbiamo la tecnologia pronta quindi è semplicemente un tabellone gestito in access stampato in pdf caricato sul sito 203 pagine di roba che quando l'abbiamo pubblicato eravamo molto preoccupati come amministratori per cosa la minoranza poteva dire in consiglio comunale del tipo guarda su questa cosa qui che era un tuo cavallo di battaglia sei appena al 50% di avanzamento non ti vergogni di questa cosa e invece cosa è successo andiamo in consiglio comunale ad approvare questo dupe di 203 pagine e i consiglieri di minoranza hanno usato una mano ma voi che vi riempite tanto la bocca di trasparenza cosa fate per la trasparenza è che mi sono cadute le braccia ho detto ma come abbiamo fatto 203 obiettivi ti stiamo dicendo che su certe cose andiamo bene e su certe cose andiamo male ma lì non è un problema della minoranza il problema è del sistema di comunicazione che è impensabile che uno vada a leggersi tutti i documenti che noi produciamo e spendiamo un sacco di tempo a fare questi documenti che poi non legge nessuno io sfido chiunque a dire quante delibere nella vita uno abbia mai letto pagine pagine minimo 4 pagine per ogni delibera noi aggiunta siamo un piccolo paese ne facciamo una ventina in settimana ma io mi chiedo ma ci sarà qualcuno che queste delibere va a leggerle no ce la diciamo ce la cantiamo è tutto tra di noi è un mondo assurdo per uno che non è della pubblica amministrazione come me che è un amministratore che quindi si ritrova in questo mondo e dice madonna ma dove sono capitato qui gente che continua a scrivere a scrivere a scrivere da un ufficio all'altro stispa fedi quattro pagine in pdf che poi dobbiamo anche caricarli ma per chi lo facciamo boh io non l'ho ancora capito quindi ci sono spazi di miglioramento io direi proprio di sì grazie Francesco io voglio sentire la tua opinione perché diciamo tu qui sei anche quello che rappresenta una una fascia demografica insomma non ti do del nativo digitale però sei comunque una persona che con la tecnologia è cresciuta c'è immersa fino al collo probabilmente anche oltre quindi quando senti parlare di queste dinamiche di questi problemi nel mondo politico tu che diciamo i big data li dai un po' forse per scontati che impressione ti fa cosa cosa ci suscita beh grazie per l'invito innanzitutto la prima risposta sarebbe che viaggiamo su due binari paralleli come come spec and tech organizziamo eventi mensili tecnologia innovazione ne abbiamo organizzato proprio uno in questa sala qualche giorno fa dopo mesi di scartoffi e di ringraziamo qui la Chiara che ci ha permesso di fare questo evento che è stato fantastico però chiamate la polizia locale la polizia locale ti manda l'altro dipartimento dipartimento ti manda l'altro ufficio l'altro ufficio ti rimanda l'altro dipartimento dovete prima avere l'ok dal sindaco lo sindaco ti manda il gabinetto il gabinetto lo richiede all'altro ufficio e due giorni prima ti dicono che la sala non è grande come ti aspettavi e che effettivamente devi richiedere un'altra carta per la somministrazione di alcolici e allora noi ci chiediamo perché non abbiamo semplicemente qualcosa dove posso cliccare a fare un bottone una richiesta e in due minuti mi trovo un permesso fatto e semplicemente perché per noi sembra tutto estremamente facile fare qualcosa è estremamente diretto ci immaginiamo l'applicazione sul telefono magari per poter richiedere un documento o fare una richiesta o avere una risposta in poco tempo invece la realtà dei fatti è un'altra e a un certo punto devi abituarti devi anche ringraziare che le cose siano così e dal lato nostro cerchiamo di contribuire e viceversa quello che notiamo sempre di più è che viaggiamo anche a velocità diverse e noi siamo abituati ad andare magari a 2000 all'ora abituati a comunicare molto velocemente con tutte le persone nella nostra giornata quotidiana e dopo quando ci interfacciamo con organi che sono molto molto strutturati e che magari attendono settimane solamente per avere una risposta ci rendiamo conto che è come se ci fosse un collo di bottiglia quindi tanti dei nostri piani dei nostri sforzi vengono quasi buttati e in quest'ottica qui quello che dovremmo fare sarebbe prima di tutto avere un'amministrazione ma anche delle persone che sono non solo cittadini ma anche cittadini digitali e cittadini che abbiano una conoscenza digitale in modo da non avere solamente una smart city ma anche degli smart citizens lato mio grazie Francesco siamo in chiusura ci sarebbe molti temi ancora da trattare ma dobbiamo lasciare il palco Maurizio Carta e Piero Perlizzaro e ovviamente immagino molti di voi debbano ancora andare a cena farei un rapidissimo giro 10 secondi a testa partendo da Napo la più grande opportunità e la più grande barriera per diciamo efficientare la pubblica amministrazione e le politiche pubbliche con i big data 10 secondi so che per te è difficile no ce la posso fare devo solo trovare le parole giuste comunque io penso che prima di tutto serve cultura del dato e non è una cosa banale questa se riusciamo a lavorare su quello riusciamo a fare un salto di qualità è un lavoro grosso perché quando parliamo di cambiamenti culturali dobbiamo cambiare un sacco di cose e penso che ci voglia tempo ci voglia la generazione di Francesco anche quella dopo e via no secondo me la più grande sfide e allo stesso tempo ha anche la prova che in alcuni settori ormai l'integrazione di questi dati a supporto delle amministrazioni per le politiche si riesce a fare sicuramente c'è un problema come diceva prima l'assessore Manuel c'è un problema di cultura e c'è un problema anche di avere le condizioni per poterlo fare perché magari il comune di Trento e la provincia di Trento riescono anche a mettersi d'accordo il comune di Trento vediamo il caso di NPR prima che arrivasse il comune di Trento e il ministero dell'interno è una battaglia do ragione collega però una battaglia praticamente invincibile quindi secondo me aver dimostrato che in alcuni ambiti questa integrazione si può fare e il vantaggio è sulle politiche e sulle azioni per i cittadini dalla prova che si può provare anche su altri ambiti io non sono un esperto di pubblica amministrazione quindi in realtà la cosa che volevo dire come cosa finale è che pur essendo un data scientist quello che spererei è che i dati essenzialmente non sono neutri e le politiche basate sull'evidenza neanche quelle sono totalmente neutre quindi essenzialmente i dati non dovrebbero sostituire il fatto che comunque si fa politica e si fanno scelte politiche e si considera chi ha costi e chi ha benefici cioè qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci perde quindi comunque in ogni caso anche l'uso dei dati deve considerare queste cose qui e deve cercare di coinvolgere i cittadini che sono quelli su cui si elaborano dati e si provano poi politiche Sì sono molto d'accordo con quello detto Bruno cioè non c'è l'uso dei dati per il design di policy non è un sostituto della politica e però allo stesso tempo può fare in modo che l'attenzione diciamo del dibattito politico più ideologico si concentri su alcune politiche e su altre l'uso di evidenza dovrebbe invece creare una situazione di diciamo così terreno comune su cui ci si può trovare d'accordo l'ostacolo più grande secondo me per l'uso dei dati nell'elaborazione dell'evidenza sono anche i tempi quindi il tempo diciamo del design con i tempi della politica specialmente in Italia visto che i tempi sono molto spesso frammentati io dico due parole per chiudere fiducia e responsabilità le leggo molto queste due parole noi viviamo in un tempo in cui la burocrazia ci sta soffocando così riprendo quello che ha detto Francesco ma è anche vero che siamo noi stessi creatori della burocrazia perché se ognuno di noi avesse più fiducia e più responsabilità di se stesso della comunità non sarebbe necessario dover costruire tutti questi orpelli che in qualche modo come dire alla fine ci legano perciò noi chiediamo quando organizziamo un evento eh ma fatecelo fare fammela dare la birra fammelo dare sto speak per riprendere un po' loro dall'altra però se succede qualcosa una piccola cosa il primo al primo che succede viene in comune e dice vabbè adesso faccio ricorso perché tu non avevi la sicurezza a posto perché tu non avevi questo perché tu non avevi quello allora ce lo dobbiamo dire chiaramente la burocrazia è legata anche a noi quindi o facciamo tutti quanti un passetto di responsabilità rispetto a questo o non potrà che aumentare perché a me chiedono fai la semplificazione io la faccio la semplificazione che vuol dire che quel modulo che devi compilare invece che farlo a mano lo fai online ma lo fai perché finché questo passetto non verrà fatto noi la burocrazia non la diminuiamo sono pienamente d'accordo e anche forse ci vuole un po' di coraggio anche da parte dell'amministrazione anche a livelli più alti di cercare di fare un vero cambiamento perché attualmente secondo me le amministrazioni pubbliche come la nostra stanno impazzendo perché da una parte dobbiamo comportarci come 50 anni fa e serve il timbro e serve la stampa se no non funziona e dall'altra parte ci viene chiesto di produrre open data di caricare le cose quindi stiamo facendo un doppio lavoro che ci sta facendo impazzire quindi ci vorrebbe anche il coraggio di togliere un po' di tutti questi timbri che non so poi se effettivamente servano sempre dall'altra parte la grande opportunità secondo me per noi amministratori che non abbiamo un confronto sul mercato perché un imprenditore ha successo se il mercato decreta che ha successo noi invece andiamo alle elezioni le elezioni che spesso appunto si chiede il voto dei cittadini sulla base dei dibattiti politici su quello che scriviamo su facebook eccetera e su interpretazioni di quello che uno pensa che tu possa aver fatto precedentemente ma è tutto molto fumoso e quindi non si sa mai veramente quanto un amministratore abbia lavorato quanto sia stato coraggioso quanto abbia fatto e io penso che questo cambio di paradigma di mettere i dati e non i documenti possa aiutare proprio i cittadini a scegliere l'amministratore giusto quello che veramente è stato bravo quello che ha ottenuto risultati e quello che può fare la differenza grazie lato mio siamo davanti a una situazione incredibile una trasformazione che sta arrivando e ormai ci siamo dentro in pieno e la prima challenge la prima sfida sarà lasciare lasciarsi indietro qualcosa e cercare di cambiare il costrutto come è al momento e per farlo secondo me l'unica soluzione sarà affidarsi ai migliori quindi non sarà difficile avere politici che siano effettivamente i migliori perché molto probabilmente se sei l'informatico migliore non vai a fare il politico ma fai semplicemente l'informatico quindi quello che deve fare la classe politica da quel punto di vista lì è affidarsi ai migliori e secondo me un esempio positivo l'ha dato il team digitale appunto quindi per esempio Renzi che ha avuto l'idea o l'intelligenza di chiedere a Piacentini comunque uno dei migliori italiani all'estero a dire vieni qua torni indietro fai un passo indietro e crei qualcosa che possa trascinare l'Italia da quel punto di vista bene chiudiamo quindi su questa nota di speranza ringraziamo i panelist e grazie anche a voi che avete resistito ai morsi della famine per assistere a questa sessione grazie e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti